Ma che dici? Ci dobbiamo pure truccare un attimo. Ti chiedi a Morea se ti dà il tempo di truccarti. Siete perfette, siete perfette. Morea, ma questa è la prima trasmissione che tu fai con i tre? Sì. Ah, bene. Roberto Morea è a conoscenza del fatto che l'oggettivazione delle donne è aumentata nel periodo del Covid, soprattutto per il fatto di vedersi continuamente riflesse e quindi vedersi come oggettivate, che ci sono degli studi che parlano del riflettersi rispetto agli stereotipi che incidono di più sulle donne, per più un po' di pazienza. Soprattutto hai capito perché io ti avevo chiesto? Assolutamente. Avete tutta la nostra comprensione e la nostra stima. Non so se volete, facciamo la diretta anche su Facebook, altrimenti facciamo una registrazione e poi manderemo i materiali sulla pagina YouTube di Transform Italia. Intanto vi ringrazio a nome di Transform Italia e di Laboratorio Sud, poi Loredana parlerà in maniera più ufficiale del laboratorio. Io vi dico semplicemente che noi come Transform Italia abbiamo seguito questa costruzione di questa relazione con la questione meridionale, che è una questione annusa e che ai noi resta ancora irrisolta nel nostro paese. Siamo partiti proprio da questa concezione granciana per affrontare la condizione del meridione d'Italia, per provare un po' anche a approfondire i termini della questione, cioè non soltanto evocarla o così superficialmente nominarla, ma provare a vedere quali sono le origini veramente nella profondità della storia di quello che è successo in Italia man mano a mano per capire e soprattutto per vedere il rapporto che questo elemento storico ha anche nella nostra quotidianità. Adesso abbiamo il Piano Nazionale di Resilienza e Recupero, che ancora una volta cerca di mettere le mani a questa questione della disimogeneità del territorio e lo fa in maniera opposta, secondo noi, a quanto servirebbe. Lo stesso progetto, processo dell'autonomia differenziata, ancora una volta vede questo accanimento verso il Sud e quindi l'idea che abbiamo avuto insieme a Loretana, Natale e tutti quelli che fanno parte di questo percorso del laboratorio, abbiamo provato un po' a cercare di chiedere degli approfondimenti e vi ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Io abbiamo diviso, come sapete, in tre fasi questo studio, questo racconto della questione meridionale e oggi siamo al primo degli appuntamenti che abbiamo voluto costruire. Quindi adesso do la parola a Loretana e poi che vi darà, secondo l'ordine, la parola. Vi chiedo chiaramente quando non siete tra gli interventi, di chiudere il microfono in modo da consentire alla registrazione di avere soltanto la faccia di chi sta parlando. Grazie ancora a tutte e a tutti e la parola a Loredana Marino. Grazie Roberto. Allora, oggi iniziamo con questo ciclo di incontri seminariali. Un ciclo che ha come titolo lezioni meridionali ed è curato, come diceva anche Roberto prima, dal Laboratorio del Sud in collaborazione con Trasform Italia e il settimanale LEPT. Oggi inauguriamo questo primo ciclo a cui poi seguiranno altri due appuntamenti il 5 e il 12 giugno. Abbiamo voluto dare a questo ciclo di seminari un taglio storico-culturale, un taglio che attraversa quelle scienze sociali importanti per approfondire quelli che per noi sono i nuovi termini della questione meridionale. Abbiamo suddiviso questo ciclo in un seguento un percorso cronologico, dalla nascita del Regno ai giorni di oggi. L'intenzione nostra come Laboratorio del Sud è quella di alimentare sul doppio binario politico e culturale attraverso temi specifici che affronteremo in questi seminari. Non solo una ricostruzione, ma l'approfondimento di alcuni interrogativi con uno sguardo incentrato, come abbiamo detto ai nostri relatori, alle nostre relatrici, su quella che noi definiamo la lotta di classe, su quello che è stato il ruolo o il non ruolo interno al mezzogiorno di una classe in lotta e su quelle che sono state le conseguenze o il peso specifico di quella che è stata poi la costruzione storica di questa unità. Inoltre, il nostro presupposto è anche quello di alimentare attraverso elementi culturali e antropologici quella che è la narrazione e lo sviluppo del mezzogiorno. Oggi quindi partiamo con una questione meridionale che parte da quella che è la nascita del regno, il conseguente periodo liberale, dalla sua proclamazione all'avvento del fascismo. Io non tratterò né nomi, né personaggi, né episodi in questa brevissima introduzione perché questo lo faranno chiaramente entrando nel merito di temi specifici i nostri relatori. Cercheremo quindi dentro un dibattito storiografico di quello che è un periodo storico di cui tanto si è parlato partendo proprio dalle riflessioni in merito alla questione meridionale. Un dibattito storiografico che sin dagli albori in qualche maniera ha attraversato le modalità con cui è nato lo Stato unitario intrecciando molte volte anche elementi giustamente conflittuali in termini ideologici e in termini politici. Ma non poteva avvenire diversamente questo dibattito considerando quelle che sono state anche le modalità con cui si giunse all'Unità d'Italia. Oggi per noi a por leggero è facile affermare fu una conquista reggia, fu una mancata rivoluzione agraria ma troppo lungo e troppo complesso è quel periodo storico e lunga è anche la vicenda dei dibattiti e delle interpretazioni da un punto di vista storico-culturale da quella che fu la riflessione e la critica di quei movimenti rivoluzionari che diedero nascita ad una stagione di opposizione una critica che si è sviluppata poi dopo il famoso biegno rivoluzionario 48-49. Diverse sono state poi le interpretazioni post-unitarie che in qualche maniera diedero, stavano dentro la nascita anche di quello che è stato lo Stato liberale incentrate in particolar modo in quella che era l'immagine un po' mitologica di un processo di formazione con un solo re, un solo popolo e quindi quella che è appunto la storia che conosciamo. Questa interpretazione storiologica del Novecento non bisogna dimenticare che ha attraversato anche dell'Ottocento e gli inizi del Novecento fino ad essere reinterpretata con l'avvento del fascismo ma molte riflessioni io ritengo straordinarie ruotano poi attorno a due scritti importanti l'Italia tra dal 1871 al 1914 di Benedetto Croce e i quaderni del carcere di Antonio Gramsci quindi andando sempre per flash prima di consegnare la parola ai nostri relatori partendo da quel dibattito storiografico e politico tra i liberali e democratici della seconda metà dell'Ottocento vediamo come loro oggi ci fanno riflettere su quanto quel contesto storico europeo ha caratterizzato la nascita dello Stato unitario di come si sviluppa questo Stato unitario attorno alla figura di Sarvoia che furono interpreti e determinarono quelli che furono gli esiti di una battaglia nazionalista sempre da questa discussione traiamo oggi le considerazioni su quello che era il fallimento della spinda rivoluzionaria del processo risorgimentale l'influenza della ricorruzione francese e quelli che furono gli esiti di fronte ad una mancata partecipazione dei ceti popolari dentro i motivi esorgimentali e quella che poi fu la futura connotazione dello Stato unitario una biografia di una nazione quale il disegno provvidenziale che bisognava fare che però mostrò da subito quelle che erano delle vere e proprie crepe da un punto di vista sociale, politico ed economico tant'è vero che già agli inizi del novecento si apre una crisi dentro lo Stato liberale e subiamo poi in questo paese l'avvento del fascismo e sembra all'interno del fascismo che si riscrive e si rinterpreta il Mezzogiorno storici fascisti riprendono quella che è la valutazione sul risorgimento quale conquista reggia e definiscono il fascismo stesso come esito culminante di tutte quelle vicende che avevano articolato questo periodo con un forte revisionismo tanto sui moti quanto sui personaggi dell'epoca dall'altra parte gli storici liberali che attorno al processo al pensiero e al processo che Benedetto Croce cercò di innescare in quel periodo tentarono di fare egemonia culturale un'egemonia culturale che proprio Gramsci all'interno dei quaderni articola nella critica agli intellettuali e io ritengo che proprio Gramsci attraverso i quaderni e anche le lettere ci consegna una profonda elaborazione del risorgimento perché Gramsci ha avuto la capacità di attraversare nuove e più ampie problematiche del periodo risorgimentale e nuovi terreni d'analisi quale appunto il terreno antropologico in particolar modo nelle lettere e proprio Gramsci analizzando quella che fu la vittoria dei moderati spiega come appunto vi è un'egemonia sul come avviene l'unità in questo paese moderati che chiaramente avevano un carattere omogeneo culturale e di classe erano colori quali si rifacevano ad una borghesia grande e media rurale e urbana che andò appunto ad egemonizzare quelli che furono i processi che determinarono che hanno determinato poi la storia unitaria e la storia del risorgimento a discapito di quei democratici che al contrario non esprimevano un ruolo politico dentro delle classi omogenee ora da qua mi verrebbe da dire un elemento mancato perché forse in qualche maniera dovevano sposare un programma che aveva un senso maggiormente sociale così come indicava Carlo Visacane nella rivoluzione sociale dando quindi un riferimento a lavoratori e alle classi contadine prevalentemente nel mezzogiorno d'Italia ciò non avvenne e quindi i moderati sono rimasti in qualche maniera stritolati dalle egemonia borghese e da quell'immobilismo popolare nemoti che hanno poi portato all'unità del paese sotto il regno di Savoia un risorgimento quindi rivoluzione mancata che non aveva saputo cogliere attraverso una riforma agraria l'adesione delle classi contadine quelle classi che definisce Gramsci nei quaderni subalterne quegli esclusi gli esclusi di De Martino nella sua spedizione in Lucania nel Salento quindi in questo si snoda per me una riflessione la costruzione della riflessione della questione meridionale che poi vede un nodo irrisolto anche nel novecento il nodo irrisolto dell'unità di lotta tra gli operai e i contadini e che ci consegna a oggi una questione meridionale chiaramente nelle nuove relazioni sociali e economiche dentro un sistema capitalistico ma soprattutto discutiamo oggi di una questione meridionale dentro un nuovo stato liberale con questa mia introduzione io voglio passare la parola ai nostri relatori e alle nostre relatrici che voglio ringraziare così come voglio ringraziare quanti hanno contribuito dato vita a lezioni meridionali e partirei con Valentino Romano meridionalista e saggista che oggi con noi attraverserà un un punto un elemento l'inchiesta sul brigandaggio e la consapevolezza nelle classi dirigenti dell'esistenza di una questione meridionale Valentino a te la parola e grazie ancora per essere con noi oggi grazie a voi per avermi voluto con voi partiamo subito da una da una domanda che può apparire inutile retorica ma non lo è quando nasce la questione meridionale bisogna dire che la questione diventa meridionale come ovvio pensare nel momento stesso in cui il meridione da entità geografica e politica istituzionale autonoma diventa sud di qualcos'altro di un nuovo stato quindi possiamo sostenere la ragione che almeno geograficamente nasce in parallelo con la nascita della della nuova Italia giusto per dirla con con croce ma altrettanto ragionevolmente dobbiamo osservare come essa preesista già nel regno delle due Sicilie rispetto a quello in Italia o almeno preesiste come questione delle classi subalterne agrarie e quindi del sottostante rapporto fra queste ultime e quelle egemoli identificate prima con la nobiltà di antico lignaggio poi con la borghesia agraria emergente e affonda quindi le sue radici già nella notte dei tempi del feudalesimo perché ruota intorno all'annoso e come hai ricordato tu prima non ancora risolto del tutto problema dell'uso e del possesso della terra il tentativo murattiano apprezzabile apprezzabilissimo di avviare attraverso la promulgazione della legge conosciuta come legge di eversione della feudalità mirante a diciamo ad una distribuzione più equa delle fonti primarie di produzione cioè delle terre comuni delle terre feudali di quelle comunali delle difese comunali e di quelle ecclesiastiche spesso per non dire quasi sempre illegittimamente usurpate questo tentativo fu costretto a fare i conti e quindi a soccombere con quel magmatico muro di gomma frapposto dalle classi egemoni grazie anche ai meccanismi diciamolo non sempre limpidi della riattuazione della legge stessa dalla burocrazia che lungi da risolvere le problematiche che la la legge la legge stessa si portava dietro le procrastinava nel tempo e le aggravò a tal punto da vanificare quasi completamente l'impostazione riformista se non rivoluzionaria della normativa è il tutto bisogna dirlo bisogna riconoscerlo grazie alla ondivaca e altanerante politica di equilibrio di equilibrismo esasperato dei borboni che nell'intento di non scontentare nessuno finirono poi con lo scontentare tutti in primis le classi subalterne agrarie ricordo a questo proposito l'illuminante saggio di Guido D'Orso la rivoluzione meridionale che pone l'accento proprio su questo aspetto da qui per voler fare un volo pindarico da qui anche da qui la diffidenza la lontananza la disaffezione del mondo contadino meridionale nei confronti dello stato per meglio dire dell'organizzazione statuale quale che sia indipendentemente dal dal colore l'utopistica come dire illusione di un mondo migliore tra virgolette in generata inizialmente anche dai nel momento della dell'unità in generata inizialmente anche dai programmi populistici di Garibaldi andò a cozzare contro la dura realtà della legge dei più forti e fu una delle non secondarie cause di quel dell'insorgere di uno spontaneo ribellismo del mondo rurale quel ribellismo che viene riduttivamente a mio avviso e superficialmente indicato con il termine brigantaggio riduttivamente perché viene bollato di conseguenza superficialmente come una mera espressione di episodica criminale e invece così non è la verità dei fatti la verità delle ragioni del ribellismo agrario meridionale forse allora sintetizzo al massimo dato il tempo concesso la verità dei fatti quella delle ragioni del ribellismo agrario meridionale forse stanno allora anche nella sintesi felicemente esposta da Carlo Rosselli ci si aspettava una rivoluzione sociale ci si trovò di fronte ad una riforma borghese tornando allora al tema della questione meridionale elemento innovativo che si innesta nella preesistente questione meridionale a cui abbiamo a cui ho fatto cenno è un altro al controllo e all'osservimento operato da sempre da parte delle classi egemoni meridionali nei confronti delle classi subalterne sempre meridionali si aggiunge un nuovo elemento che va ad aggravare la questione stessa e la rende in questo preciso momento la rende meridionale non solo in senso geografico ma in senso anche politico istituzionale programmatico è il controllo che l'intera borghesia italiana saldatasi scaturente dalla saldatura fra la borghesia agraria meridionale quella preindustriale del nord questo controllo che fa come dire questa 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 borghesia che alla fine della fiera è l'unica vera vincitrice finale di tutto il processo risorgimentale che opera questa borghesia opera su tutte le classi subalterne della neonata nazione soprattutto di quelle meridionali la cosiddetta conquista del sud può allora essere intesa non già per usare una terminologia ricorrente oggi come una sorta di esportazione della libertà ma come un'espansione di stampo colonialistico capitalista liberista finalizzato all'asservimento di nuove popolazioni e allo sfruttamento delle tante ancora inespresse potenzialità dei nuovi territori conquistati si badi bene per evitare ogni intendimento qui non si vuole assolutamente comportare o sostenere le insostenibili peraltro ragioni di una dinastia inefficiente inadeguata retriva come quella dei Borboni ancora nemmeno si vuole sostenere le ragioni di una organizzazione burocratica e centralistica nelle quali prevalgono corruttere di ogni tipo e la logica dell'ognuno pensi per sé anche a scapito degli altri qui si vuole semmai porre l'accento sui meccanismi inconfessati e sottostanti attraverso i quali si è concretizzato o si è realizzato l'ideale nobile del risorgimento al sud se realmente penso se realmente a muovere le fila del processo unitario fossero stati al sud o per il sud fossero stati gli ideali di unità di fratellanza di giustizia sociale di libertà dei popoli della penisola e quant'altro ne sarebbe scaturite a cose fatte una volta realizzata una politica di riforme di interventi strutturali di rimozione delle differenze di superamento della conclamata arretratezza o presunta arretratezza delle province meridionali rispetto a quelle del nord e cosa più importante cosa altrettanto importante la diversità delle prime rispetto alle seconde sarebbe stata intesa come ricchezza un quid pluris che andava ad aggiungersi alla neonata nazione non già invece come è stata intesa cioè come inferiorità il che purtroppo è accaduto sicché da subito ma forse ancora prima che si realizzasse completamente l'unità della nazione il meridionale è stato considerato un inferiore fino ad arrivare alle tesi abberranti dei positivisti dei quali è massima espressione l'ombrosa cosa ne è derivato ne è derivato che al posto di una politica inclusiva che trovasse la sua ragion d'essere nella ricerca del consenso si è preferito ricorrere all'arma della repressione al posto delle riforme possibili si è scelta la repressione delle baionette dei protoni di esecuzione e questo processo repressivo trovò la sua consacrazione nella legislazione speciale in quella soprattutto in quella legge liberticida e addirittura peggiorativa anche rispetto allo stesso statuto albertino legge che tra l'altro per una tragica ironia porta il nome del di un deputato meridionale il primo firmatario della legge Giuseppe Pica ed è veramente una di quelle ironie che che non fanno fanno sorridere fanno solo tristezza anche per come si arrivò alla presentazione di quella legge una legge vi accenno solo di spugita perché porterei via tutto il tempo se dovessi parlare compiutamente di questa che non aveva però si va di bene come può apparire ad una sua prima superficiale lettura il solo obiettivo di combattere e reprimere giustamente o meno il brigantaggio ma assai più subdolamente ma assai più realmente quella quella di reprimere ogni forma di dissenza e infatti come possiamo spiegarci noi altrimenti diversamente la genericità l'indeterminatezza della sua formulazione laddove indica per esempio come suoi destinatari non solo i famigerati briganti non solo ci si fosse limitato a questi ci sarebbe stato anche poco da obiettare ma anche gli oziosi i vagabondi i camorristi i manutengoli e le persone sospette ecco le persone sospette e più ne ha più ne mette però il risultante qual è il il sospetto viene elevato al rango e dignità di prova da un punto di vista giuridico ma da un punto di vista politico sociale il dissenziente cioè qualunque sia la declinazione del del suo dissenso si vede aprire indiscriminatamente arbitrariamente le porte del carcere o le vie del domicilio 4 chiunque in pratica proprio con le maglie larghe della formulazione della legge corre il rischio di incappare nei rigori della stessa il professor Martucci che si è occupato più e meglio di tanti della legislazione speciale denuncia per esempio il caso emblematico di tre giornalisti napoletani i quali furono sospettati inquisiti e proposti per il domicilio coatto perché si legge nella motivazione del loro rinvio al giudizio perché con i loro scritti avevano favorito avrebbero favorito il brigantaggio questi si erano limitati a denunciare tanto la durezza della repressione quanto il fatto che il brigantaggio aveva anche delle istanze sociali in evase che ne erano state causa e con causa quindi accusati di manutengolismo cioè di favoreggiamento del brigantaggio per aver scritto espresso il loro pensiero se mi passate un accostamento ardito sembra quasi un'applicazione ante l'interam del del reato di concorso esterno ma vabbè la chiudo qui la legge PICA fu emanata d'urgenza nell'ultima seduta utile del Parlamento italiano prima della sospensione estiva anche questo fatto dovrebbe farci direttere le peggiori leggi che abbiamo avuto da allora ad oggi chissà come sono state tutte emanate in prossimità delle delle sospensioni o alla scade o a oras rispetto alla scadenza dovuta dovuta dalla legge o ad oras rispetto alle sospensioni in questo modo tarpando il comunque il dibattito la PICA fu la risultante di un lungo faticoso ma assai contrastato lavorio parlamentare al quale sarebbe utile fare un rapidissimo anche se non esaustivo cenno perché è essenziale la sua decodifica è essenziale ai fini di comprendere meglio il problema della percezione dell'esistenza di una questione meridionale nelle classi egemone e governative cioè nella stanza del bottone dove ci sono le leve del potere Brigantaggio fece il suo ingresso ufficiale a Palazzo Carignano con Giuseppe Massari un altro meridionale per inciso che il 2 aprile del 61 con un'interpellanza criticò duramente assai duramente l'operato del luogotenenza napoletana si può dire che Brigantaggio che entrò dalla finestra inserito come era nell'intenzione del Massari stesso in un più ampio dibattito politico derivante per il deputato dalla necessità di prendere posizione di porre l'accento sul dissidio profondo che in quel momento agitava le varie anime politiche dei cosiddetti vincitori della destra storica vi entrò anche in ragione di questo vi entrò semplicemente come pericolo criminale tuttavia vi entrò con una prima sottovalutazione cioè da parte del Massari si poneva da un lato l'accento sulla necessità di contrastare e scompiggere ed eliminare il fenomeno ma dall'altro si poneva l'attenzione sul fatto che poi non fosse un fatto tanto rilevante e tanto importante perché perché se avesse riconosciuto l'importanza della discussione territoriale familiare e quant'altro avrebbe dovuto riconoscere necessariamente l'esistenza di altre motivazioni arrivare cioè a una sorta di riconoscimento di guerra civile il che lo faceva andare su tutte le furie tant'è vero che Petruccelli e Lagattina mi disse scusa ma i briganti non sono italiani e se sono italiani allora questa guerra civile facendo andare tutte le furie massali vabbè comunque saltando saltando tutto quanto il brigantaggio era e questo risponde ad un più ampio disegno della destra storica era dunque semplicemente da reprimere senza darvi come ho detto troppo peso politico e senza indugere ad esagerazioni quantitative non vi era secondo il il deputato pugliese necessità di interventi legislativi per lo meno la prima fase di interventi legislativi straordinari a ciò bastando come dire una azione energica di controllo del territorio Massari poneva per esempio lo cento sulla necessità di evitare l'eccessiva piemontesizzazione dei territori ma il tutto era inserito in una logica di spartizione di posti di comando che vi lascio che sono facilmente comprensibili secondo Massari le cause della recrudescenza del fenomeno da ricercarsi nel malgoverno borbonico e non nelle istanze in evase istanze sociali in evase del la parte delle classi subalterne conformemente al pensiero della destra tutta alla quale apparteneva ad agitare le acque intervennero altri deputati appartenenti alla sinistra pochi altri a dire il vero e cosa che resta qualche spunto di riflessione i più accesi oppositori all'impostazione del Massari non furono i meridionali ma fu per esempio Ferrari che era un milanese un filosofo milanese che sosteneva invece l'urgenza di istituire una commissione di inchiesta sulle condizioni della provincia meridionale e con un ordine del giorno contrario ci si oppose da parte della destra ci si oppose fermamente a questo a questa proposta a questa interpellanza del Ferrari manco a dirlo tra i firmatari tra i primi firmatari del di questa controproposta risultavano deputati meridionali appartenenti alla destra storica il che ce la fa capire tutta ce la fa dire tutta dall'esame così a volo d'uccello dei primi lavori discendono direttamente alcune considerazioni che poi avrebbero avuto riverbero nelle scelte future sul brigantaggio uno la sottovalutazione complessiva del fenomeno e la mancata valutazione delle sue variegate complessità la scarsa propensione del governo della destra storica tutta di consentire un franco dibattito e un approfondimento sulle modalità di repressione il tempo non permette una disamina dei vari passaggi parlamentari che dal 2 aprile e fino all'agosto del 2 aprile 61 e fino alla prima metà di agosto del 63 si succedettero in aula basterà però inquadrare l'atteggiamento governativo di fronte al problema per inquadrare l'atteggiamento governativo basterà indicare un episodio paradigmatico direi a Ferrari e ad altri che con veemenza chiedevano una discussione in aula per arrivare alla commissione d'inchiesta si frappose da parte della destra l'urgenza di un'impellenza assai più impellente discutere sulla estensione del decimo di guerra anche alle province napoletane il 29 giugno del 61 in pratica che cosa chiedeva la destra le province del nord stanno pagando soggiacciono dalla tassazione del decimo di guerra per sostenere una guerra al sud poi è una nazione unica ormai è una non si vede perché non debbano pagare anche le popolazioni meridionali e allora si ebbe sai che soddisfazione il fatto che i meridionali giriamolo con una battuta ma non vuole essere tanto tale i meridionali contribuirono a farsi fare la guerra stessa vabbè lasciamo per nel novembre del del 61 ricasoli allora presidente del consiglio affermò testualmente che leggo che il promuovere di nuovo la questione delle piaghe delle province napoletane sarà un perdere un tempo prezioso più di quella meridionale premeva il governo premeva il governo affrontare quella romana cioè una una questione politica e non una questione sociale e così tra reticenze sofismi rinvii omissioni si arrivò alla fine del 62 quando finalmente si determinò l'istituzione di una commissione la prima vera grande commissione d'inchiesta dell'Italia Unita i deputati scelti a seguito nominati letti a seguito anche di compromessi fra le varie forze esistenti nel nel Parlamento di allora percorso in lungo e largo e in meridione per vedere dal vivo per rendersi conto dal vivo dello stato dell'arte non si vuole essere qui cattivi però si risolse in gran parte in una passeggiata di salute se è vero come è vero per esempio io ho avuto modo di esaminare gli atti della commissione conservati nell'articchio storico della città di Brindisi il tutto poi si risolse ad una gitta turistica con delle con dei pranzi fantagruelici ma al di là di questo aspetto più o meno folcloristico c'è una considerazione la commissione tutti interrogò tutti esaminò a tutti chiese parere tranne che ai diretti interessati o perlomeno a una delle parti direttamente interessate non c'è in tutti gli atti della commissione almeno quelli salvati da da molpese non c'è un solo interrogatorio di un contadino quindi le ragioni dei contadini sono state riportate dalla commissione per via riflessa per via per via mediata naturalmente la destra si oppose all'istituzione della commissione ma a fronte delle e tra l'altro il governo non accettò nemmeno la proposta di legge che a seguito della fine della volta della commissione lo stesso Massardi aveva presentato che era una proposta classista sicuramente ma sicuramente più moderata rispetto alla formulazione finale del di quella legge Valentino ti chiedo di arrivare alle conclusioni perché sono sto arrivando ci sono e e niente e il risultato quale fu fu la repressione dire oggi se c'è stata o meno percezione nelle classi egemone nelle classi governative del della questione meridionale cioè si può rispondere a questo si può rispondere a fede normativamente ci fu una percezione che anche se figlia della sottovalutazione funzionò in pratica come servì soltanto a nascondere la polvere sotto il tappeto e non a risolvere il problema della pulizia giusto per chiudere con una metafora grazie grazie Valentino Romano ora passo la parola Filomena Paiano dottoressa in psicologia sul tema la lettura biologista della retratezza del sud a te Mena la parola e grazie per il tuo intervento salve buonasera a tutti e grazie per l'opportunità chiaramente ci tengo a chiarire il fatto di non essere una storica e per cui la mia lettura non sarà una lettura storica ma sarà più una lettura volta a quelli che sono i concetti del sociale anche perché dal mio punto di vista ritengo che sia molto importante attualizzare determinati tipi di concetti per capire i modelli provenienti dal passato siano tuttora oggi presenti per cui sarebbe molto semplice partire dal concetto di quella che è una critica rispetto al positivismo di Lombroso dobbiamo però dire che Lombroso non fu l'unico nel periodo in cui scriveva quindi dopo il secolo dei Lumi nell'altardo ottocento ad intravedere attraverso una risposta biologica scientifica o pseudo scientifica come si dimostrò tale determinati tipi di contesti che dessero la possibilità ad altri gruppi etnici di sfruttarli altri perché in fin dei conti credo che sia sempre importante riportare il concetto non sulle non sulle sovrastrutture ma sulle strutture rapporti appunto di forza e dominanza per lungo tempo nei periodi precedenti a quelli di Lombroso c'erano stati altri tipi di modelli culturali che avevano imposto la superiorità di un popolo rispetto all'altro soprattutto avevano fatto da padrone quelli che erano i concetti dei monoteismi delle religioni più frequenti per cui penso che ci ricordiamo tutti quelle che sono state le crociate le crociate venivano fatte per appunto portare la civiltà portare il vero Dio in altri posti a che costo queste crociate si facessero spesse volte non ce lo siamo chiesto e forse ancora oggi una certa critica non viene fatta in questo senso dopo questo tipo di periodo si sviluppò un periodo che fu poi anche chiamato quello del terrore cioè il periodo dell'illuminismo che conseguentemente portò un certo ribaltamento di quello che era un ordine costituito e si mise la scienza al posto di Dio tanto che Rashid fece un libro che si chiamava Frankenstein quando appunto la nostra i nostri tipi di teorie si sposano al Dio scienza quanto poi l'uomo viene costretto cambiando quello che poi è la forma di Dio ma nella sostanza rimanendo comunque un concetto di forza e di forze sbilanciate in questi tipi di periodi nasce quello che è appunto la scuola del positivismo che cos'era il positivismo che nasceva soprattutto in Inghilterra ed ebbe comunque una diffusione o un dibattito in tutta Europa era la possibilità di conoscere attraverso un metodo oggettivo così definivano loro che era quello appunto della conoscenza io conosco attraverso ciò di cui faccio esperienza e vedo quindi sembra una cosa abbastanza buona ancora oggi molta parte del nostro pensiero essendo io una psicologa che si occupa più del sociale e quindi di capire come il nostro cervello funziona rispetto a dei meccanismi possiamo dire che il tipo di pensiero positivista è ancora presente nella maggior parte delle persone abbiamo un tipo di pensiero che viene detto appunto ingenuo ingenuo non perché è stupido o non maturo ma perché non supportato da teorie scientifiche soprattutto nell'infanzia abbiamo un tipo di pensiero che è quello più oggettivo quindi io conosco attraverso quello che vedo e per me questa è la realtà nel tempo diventiamo più relativisti e che cos'è la relativizzazione pensiamo che vabbè tutti i pensieri sono giusti come vedete già postulare il fatto che tutti i pensieri sono giusti porne delle ingiustizie perché se tutto è giusto nulla è giusto in questo tipo di momento storico si insinuava quello che poi era il contesto del colonialismo di come popoli più ricchi avevano cominciato poi a colonizzare paesi più poveri e diciamo che gli uomini ricchi soprattutto perché avevano le costituzioni avevano fatto questi stravolgimenti avevano necessità di avere un supporto morale rispetto a quello che stavano stavano compiendo e quindi dove non potette la religione ci si mise la scienza la scienza in questo senso con un nuovo tipo di studi e di un nuovo tipo di studioso che fu l'antropologo da salotto l'antropologo da salotto perché detto da salotto perché per la maggior parte delle volte non era mai stato nei posti che venivano studiati in cui appunti venivano mandati solamente dei carteggi e dove delle persone che osservavano dei comportamenti lontani dalle proprie culture venivano definite razze inferiori da qui appunto l'origine del concetto della razza perché oggi abbiamo svuotato completamente quelle che sono le parole per cui si definisce razzismo qualunque cosa e le parole quando significano troppe cose a volte non significano più niente il razzismo è composto da molti ma da molte componenti una di queste per esempio è la xenofobia che è tutto il razzismo rispetto a un certo gruppo sociale perché è importante fare questo preambolo perché è importante comprendere come gli studi di Lombroso che appunto era uno storico un medico che poi si è interessato anche di un tipo di studio che era la criminologia dando vita a quello che era il dibattito rispetto all'eogenetica che si stava sviluppando in quel periodo nel periodo italiano appunto nel quale abbiamo visto poc'anzi prima con la persona che mi ha preceduto c'era stato appunto l'unità d'Italia per cui questa massiccia migrazione per appunto i migranti economici che tornano in auge aveva fatto sì che molte persone dal sud si spostassero al nord certamente nei rapporti di forza le migrazioni non sono mai viste di buon occhio soprattutto perché vanno ad intaccare quello che è un concetto del costrutto sociale e quello che è appunto il concetto di norma l'ombroso appunto nella seconda metà dell'ottocento comincia a formare questo tipo di teorie studiando i crani lui era venuto qui al sud aveva trovato alcune di queste teste mozzate alcune delle quali erano appunto teste dei briganti per cui si era stabilito che i meridionali secondo di questa fossetta che lui aveva trovato questa scienza della fisiognomica creò queste due italie i meridionali per cui sarebbero stati non solo inferiori per una questione di razza ma non potevano nemmeno essere civilizzati proprio perché anatomicamente differenti rispetto alle persone del nord Italia chiaramente questa cosa oggi ci farebbe quasi sorridere però vi faccio vi faccio presente che le teorie lombrosiane come quelle del darwinismo appunto che postulavano il concetto di una specie più adatta riportate da quelle che era un concetto biologico etnografico sono state portate traslate all'interno del sociale per spiegare in un certo qual modo e per proteggersi la coscienza da quelle che poi erano i rapporti di forza e subitanza che cosa che cosa davano queste teorie qual erano il supporto di queste basi furono sicuramente le basi per le leggi razziali da lì a poi ma nel durante nel contempo in cui lombroso appunto studiava e proponeva queste sue teorie fecero in modo che nel prodotto interno quindi all'interno degli stati diciamo oggi diremmo per il ministro dell'interno questi tipi di teorie potessero dare la giustificazione affinché gli uomini sfruttassero altri uomini proprio perché la legge della dominanza era prevista anche in natura per quanto riguarda invece quello che fu la politica estera questi tipi di teorie giustificarono quelle che erano appunto le colonizzazioni la schiavizzazione di interi popoli proprio perché si diceva che anche in natura l'animale più forte dominava su quello più debole ragion per cui non c'era nessun tipo di concetto moralistico ovviamente ciò ciò detto noi dobbiamo comprendere quanto queste cose che ci sembrano così lontane forse anacronistiche perché comunque la scienza le ha smontate punto punto siano ancora oggi presenti nella maggior parte delle persone e quindi vorrei oggi partire da questo dibattito per spiegare che cosa sono i pregiudizi il pregiudizio è legato da un tipo di atteggiamento e gli atteggiamenti hanno tre motivazioni la prima parte è quella legata al concetto emotivo quindi io conosco attraverso un'emozione per esempio l'ostilità una seconda parte è l'estensione dell'atteggiamento quindi questa emotività mi porta ad avere l'ostilità verso un determinato gruppo e la terza parte è quella legata a un costrutto che è della componente cognitiva la componente cognitiva inficiata quindi dalla emozione difficilmente riuscirà a far fronte a un ragionamento logico perché quindi esistono questi pregiudizi molte volte ci siamo sentiti dire che questi pregiudizi esistono perché tutte le specie tendono a preservarsi e quindi ad avere una tecnica della somiglianza per cui se qualche cosa non mi assomiglia io la rifuggo questa cosa in parte è vera ma un'altra parte è data soprattutto dalla cultura tutto ciò che si allontana dalla norma che è culturalmente accettato viene visto come non giusto proprio io faccio un esempio per far comprendere come determinati tipi di pregiudizi siano ancora oggi radicati con quelli che si chiamano appunto nuovo nuovo pregiudizio facciamo gli esempi del tema che tratto meglio quello del femminicidio in genere di fronte a dei femminicidi si hanno due tipi di reazioni una di questa è quella della cronaca rosa quindi dove si stigmatizza l'atteggiamento della donna che probabilmente ha avuto una condotta amorale per cui ha portato alla sua morte se lei si fosse comportata in un determinato modo sicuramente queste cose non sarebbero accadute un altro tipo di risposta è quella della cronaca nera più il fatto è efferato più si rifugge da noi come qualcosa che non ci tocca e quindi appartiene al concetto del delitto fatto da un pazzo da qualcuno che non era capace di intendere e di volere faccio questi tipi di esempi perché sono più semplici da farci comprendere come la nostra mente ragiona per automatismi determinati tipi di concetti lombrosiani li troviamo tutte le volte che si sentono determinati tipi di frasi tipo benvenuti in Italia magari all'interno degli stadi quando sentiamo magari attraverso la cronaca e la narrazione di determinati media che sono i meridionali quelli che più utilizzano strategie di furto di rapina come se la mafia esistesse solamente qua ma la mafia come qualcuno dice è una parola italiana ed è una parola del sud Italia ovviamente questi tipi di stereotipi quindi di stereotipi di motivi primi appartengono a quello che è il tipo di discorso di un bias cognitivo i bias sono ragionamenti veloci che noi facciamo quando non abbiamo la possibilità di pensare questi resistono anche durante l'evidenza questi tipi di preconcetti del meridio orale inferiore che poi viene utilizzato anche per tutti i sud del mondo se allarghiamo al di là del nostro dibattito servono e sono funzionali per mantenere una sudditanza economica e psicologica rispetto a un gruppo etnico nulla di più e nulla di meno sicuramente non ho delle soluzioni perché la soluzione non è quella solamente della cultura perché chiaramente fare cultura è importante ma la cosa più importante è sicuramente la diffusione della vicinanza e della prossimità con l'altro se noi ci rendiamo conto che l'altro non è tanto diverso da me e che soprattutto ragionare per quello che sono di stereotipi appunto il meridionale puzza il meridionale come Giuseppe Villella aveva questa anomalia cranica di questa fossetta per cui non poteva essere civilizzato questi tipi di costrutti fanno sì che entrano all'interno delle nostre culture che noi li trasmettiamo a nostra volta ai nostri figli ai nostri colleghi e che quando non siamo pronti rispetto a un dialogo che è più alto e quindi che ci porta alla discriminazione del pensiero veloce che è quello che attribuiamo velocemente ci fa cadere anche a noi nel pregiudizio del razzismo perché poi in fondo di questo stiamo trattando abbiamo detto di quanto le parole siano state svuotate ma è importante riapprovarci di un certo tipo di parole e stabilire che questo concetto delle due italie è stato sempre funzionale per mantenere dei rapporti di forza e di dominanza verso un popolo che era considerato più arretrato e verso il quale appunto far arrivare meno risorse e fare avere una politica di espansione diversa depavuando quelle che erano le risorse economiche del sud ma anche le risorse che poi sono quelli dei cervelli in fuga che andranno verso l'estero per trovare risposta perché qui magari non la trovano e per avere una più facile gestione dell'economia e del denaro nel triangolo settentrionale io chiaramente volevo anche inserire il fatto che molte volte questi tipi di pregiudizi antimeridionali li ritroviamo ancora tutt'oggi attraverso la scuola di Lombroso sicuramente ma che questo pregiudizio antimeridionale è qualche cosa che prepotentemente sta ritornando forse proprio perché c'è una grossa spesa in questo momento in cui ci sono stati degli stravolgimenti economici e che quindi il concetto di far ripartire o di ripartire dal sud non viene ben visto da quelli che sono gli ordini dei poteri costituiti ricordiamoci che al primo del covid si parlava appunto di quello che doveva essere un federalismo anche del federalismo sanitario per cui c'era già un disegno in atto rispetto a dividere ulteriormente l'Italia il fatto che le teorie lombrosianici sembrano così lontane perché non abbiamo fatto il conto con quello che è l'inconscio collettivo dei posti e su quelli che sono i pregiudizi ad avici che sono molto difficili da scardinare perché fanno parte della nostra cultura spero di essere stata esaustiva e di aver dato una lettura sociologica di quelle che sono le motivazioni terze rispetto alle diversità io ti ti ringrazio ti ho seguito in tutta la tua ricostruzione e ora come da scaletta darei la parola ad Alfonso Conte professore di storia contemporanea presso l'università di Salerno per attraversare quelle che che erano le istituzioni le forme della politica nel sud nel secondo ottocento a te Alfonso la parola e grazie anche a te per la partecipazione grazie a te per l'invito devo dire che devo confessare subito inizialmente un mio disagio perché provo a presentare alcune riflessioni che sono di storia perché mi occupo di storia devo dire rispetto ai due interventi che mi hanno preceduto in realtà mi sembra che invece l'attenzione sia focalizzata soprattutto a quella che potremmo definire una filosofia della storia qualcosa di diverso cioè il tentativo di applicare categorie schemi filosofici a quella che è la conoscenza della storia in realtà attualizzare il passato è sempre un'operazione diciamo per molti aspetti non propriamente corretta perché in realtà ogni fase storica vive di suoi contesti e di suoi caratteri propri che sono molto molto diversi e quindi in realtà rendono impossibile una trasposizione nel tempo vengo anche a un punto fondamentale e lo dico con grande franchezza perché credo che i dibattiti siano profiqui se si parla in maniera franca e questo è un incontro proposto da un partito su un tema importante come quello della questione meridionale nel 2021 che secondo me ci pone il problema innanzitutto di capire se schemi categorie quadri ideologici che in passato sono stati ampiamente utilizzati per analizzare la questione meridionale siano ancora oggi nel 2021 riproponibili faccio in particolare riferimento a termini che ho ascoltato come egemonia e classi subalterne come sfruttamento e mi chiedo se meccanicamente possiamo continuare a utilizzare questi schemi andando quasi a ingabbiare una realtà che probabilmente è molto più ricca e molto più sfumata offre una serie di caratteri molto diversificati che in realtà probabilmente dal mio punto di vista sfuggono a questa diciamo previsione questa lettura preventiva potremmo dire di quella che è la realtà storica e soprattutto mi pongo un problema lo dico in maniera molto molto franca se come persone di sinistra e di una sinistra radicale oggi nel 2021 ci poniamo il problema di analizzare la questione meridionale per arrivare a quale giudizio? Per dichiararci contro per operare una condanna dell'unità d'Italia? Oppure per condannare quel paradigma potremmo dire sviluppista che è alla base di quella azione della borghesia che guida quel processo unitario e che poi guida anche tutta la politica del periodo post-unitario e allora se condanniamo questo paradigma sviluppista che evidentemente è fortemente legato a un modello anche e soprattutto capitalistico che in quegli anni era vissuto come il progresso come la modernità giustamente prima si faceva riferimento al fatto che Pica Massari sono meridionali ma non sono gli unici meridionali quell'unificazione nasce grazie al contributo di tanti meridionali e la politica italiana post-unitario dal 61 in poi vede il contributo la partecipazione il protagonismo di tanti meridionali i quali sono tutti venduti agli sfruttatori i quali passano tutti per motivi di opportunismo dalla parte degli aguzzini e costringono il sud in questa condizione di sfruttamento di inferiorità addirittura biologica beh in realtà io faccio fatica a pensare questo mentre più probabilmente mi convince l'idea invece che a lungo ma ancora addirittura fino al secondo dopoguerra in realtà queste riflessioni questo dibattito si svolge all'interno di una classe sociale anche limitata ristretta numericamente perché sono quei pochi che hanno coscienza di questi problemi e all'interno di quel ceto per motivi diversi si afferma appunto questo paradigma che è un paradigma che affascina perché secondo me se perdiamo di vista questo elemento secondo me rischiamo di perderci molto a lungo la modernità e il progresso vengono confusi con le dinamiche capitalistiche e spesso di un capitalismo che è tutto competizione che è tutto basato sulla forza sulla prepotenza dei soggetti economici più forti è un progetto che affascina molti che conquista che coinvolge perché lascia intravedere la possibilità di un progresso materiale per tanti e in parte storicamente in alcune fasi ma questo è anche confortato dai fatti da quello che avviene per cui vediamo che a lungo non solo ci sono i meridionali in questo discorso ma a lungo ci sono settori anche liberali avanzati progressisti che partecipano e appoggiano questo progetto ci tengo molto a essere molto chiaro e a essere molto preciso io penso che come persone di sinistra nel 2021 abbiamo il dovere di dire parole chiare e devo dire tra queste parole chiare io faccio fatica a condannare la nascita di uno stato liberale che rispetto al precedente regime autoritario borbonico nato con la seconda restaurazione post 48 di Ferdinando II invece basa la vita pubblica su una costituzione su principi liberali su quelle che Pisacane aveva chiamato negli anni prima della spedizione di Sapri le mezze libertà quelle che erano soltanto libertà politiche quelle che erano soltanto diritti individuali e quindi sicuramente insufficienti sicuramente mancanti di quei principi di giustizia sociale che poi una nuova coscienza invece affermerà e metterà al primo posto ma sono delle mezze libertà che sono comunque sicuramente un avanzamento una conquista straordinaria rispetto a quello che era il periodo precedente rispetto al quale io non riesco a sottovalutare non riesco a sicuramente a non vedere quegli elementi di avanzamento civile che sono così chiari e manifesti ancora l'altro elemento che vorrei porre egemonia classi subalterne c'è in realtà dall'analisi storica un'altra categoria che invece si afferma in maniera molto più evidente in quegli anni e che arriva fino al secondo dopoguerra soprattutto in riferimento alle aree rurali alle campagne del mezzogiorno e si chiama paternalismo in realtà le masse rurali a lungo addirittura non hanno coscienza di essere sfruttate perché avvertono normalmente quasi l'esigenza di affidarsi nelle mani del padrone nelle mani del proprietario agravio e per decenni e decenni queste persone quasi da una generazione all'altra affidano a questo ceto che sicuramente è dominante che sicuramente concentra in molti casi anche in maniera egoistica la proprietà e i mezzi di produzione ma che allo stesso tempo a lungo riesce anche a tutelare lo so è strano ed è quasi come devo dire per certi aspetti inaspettato dircelo a me è capitato lo dico a Loredana che mi conosce qualche anno fa di fare un incontro su questi temi nel Vallo di Diano in provincia di Salerno e parlare male della borghesia agraria del nostro meridione e alla fine dell'incontro mi avvicinò una persona anziana e mi disse però lo sapete quando ci stavamo di padrone stavamo meglio è una realtà che sicuramente non giustifica un sistema sociale un modello economico ma che probabilmente ci aiuta a capire perché per esempio le organizzazioni socialiste faticano così tanto nel nostro mezzogiorno a nascere perché così a lungo addirittura il proletariato meridionale non avverte l'esigenza perché a lungo nel mezzogiorno continuiamo a votare per la democrazia cristiana perché ancora nel 1974 al referendum per il divorzio in grande maggioranza il mezzogiorno vota secondo le indicazioni della Chiesa e contro appunto il divorzio evidentemente perché c'è una fatica delle masse popolari meridionali a seguire un percorso che è di emancipazione di presa di coscienza di auto-organizzazione e vi confesso un punto di vista che è il mio e per cui è assolutamente personale secondo me in questo ritardo a prendere coscienza a divenire protagonisti della propria storia delle masse popolari meridionali c'è anche il fatto che quella forma di paternalismo borghese per molti aspetti a lungo funziona e consente a molti dei contadini e dei braccianti con pochi soldi con condizioni precarie non c'è dubbio però consente a lungo di avere un livello materiale di vita che è corrispondente a quelle che sono le proprie esigenze e questo mi sembra un problema importante rispetto al quale probabilmente rispetto al quale dare risposte c'è un'ultima riflessione e poi mi avvio alla conclusione altro interrogativo secondo me importante che ci viene da quel periodo da questa analisi storica è se effettivamente fu vero progresso se tutto il fascino che esercitò quell'idea della modernità che all'epoca conquistò tanti se fu poi un progresso reale beh questo secondo me è uno degli elementi decisivi che oggi dovrebbe portarci a dire che quella fu una grande illusione che quello fu un grande fascino che fu esercitato in maniera del tutto infondata e tanti cedettero a quel sogno e però oggi sappiamo che quel sogno è fallito e quella modernizzazione legata soprattutto all'evoluzione di quelle forme capitalistiche oggi ci porta a dei punti di non ritorno e qua l'altra domanda fondamentale è se a quel punto e lo dico perché spesso secondo me la domanda principale che come forze di sinistra eludiamo in maniera sistematica ma noi siamo dentro o fuori il capitalismo questo capitalismo lo buttiamo a mare e lo buttiamo tutto a mare quel sogno e se lo buttiamo che cosa immaginiamo perché se no io devo dire faccio fatica anche ad intendere le forme di queste analisi appunto di filosofia della storia grazie secondo me il tuo intervento scatturirà anche un dibattito dopo anche perché il dibattito mi ho pronato anch'io avendo tu citato Pisacane detto detto ciò oltre poi ad aver toccato dei punti secondo me importanti anche degli interrogativi rispetto all'oggi ora a questo punto eccomi passerei la parola su tradizione e culture nel sud urbano e nel sud rurale a Tulia Conte che è non solo performance ma anche scrittrice di tradizioni e culture del Mezzogiorno d'Italia a te Tulia la parola grazie Loredana grazie per l'invito e io vi porto oggi questa la mia esperienza appunto di ricercatrice autonoma mi occupo di fenomeni delle delle classi subalterne del Mezzogiorno d'Italia e soprattutto di tutto quello che è legato al movimento essendo io appunto una performer una danzatrice e un insegnante di danza è proprio in questo contesto che mi sono rivolta allo studio della storia di questi fenomeni per cercare insomma di inquadrarli meglio e tutto il discorso che vi farò si inserisce sicuramente in parecchi ambiti che avete toccato ciascuno di voi e voglio partire proprio dal pregiudizio che sono sicura ognuno appunto di noi anche io fino a prima di conoscere queste cose nutre nei confronti proprio anche soltanto della parola tarantella che in questa storia appunto di classi subalterne e di rituali tradizionali è la parola fondamentale questo termine appunto è conosciuto per per le sue dimensioni se vogliamo ludiche anche folcloriche in realtà il nome è appunto il diminutivo di taranta ovvero un ragno mitico che soleva pungere le vittime e avviarle a una forma diciamo di follia tra virgolette curabile con rituali che includevano la danza e la musica questo fenomeno che può sembrare appunto un fenomeno folclorico in realtà ha interessato il bacino mediterraneo per parecchi secoli per bacino mediterraneo intendo appunto il sud Italia isole comprese e fin anche la Spagna quindi ha interessato molte persone per molto molto tempo sicuramente voi conoscerete appunto gli studi che sono stati effettuati dall'antropologo Ernesto De Martino che sono quelli più noti sulla questione la prospettiva che io vi voglio offrire oggi non si distacca assolutamente da quella di De Martino ma si amplia un attimo anche perché appunto nell'oggi siamo in grado di comprendere più dimensioni di questi fenomeni così complessi e soprattutto siamo in possesso di maggiori informazioni per fare così un diciamo un escursus storico possiamo renderci conto mi limiterò oggi alla Campania perché ovviamente come comprenderete il fenomeno è veramente complesso e si manifesta in maniere simili ma diverse in ogni in ogni zona limitatamente alla Campania appunto una forma di Tarantella quindi di Danza Terapeutica era già diffusa sin dal 1600 dichiaratamente per curare stati di possessione causati appunto dal morso vero o presunto della Tarantola questo tipo di pratiche fanno pienamente parte del del contesto culturale partenopeo e non solo di tutta la regione tant'è che Virgilio Marone traducendo le Neide in Napoletano nel 1699 ne fa menzione esistono addirittura un repertorio tutto un repertorio di canti detti a Tarantella che sono appartenenti appunto alla cultura napoletana e che sono comunque collegati in maniera abbastanza certa al fenomeno del tarantismo tant'è che il primo esempio che possiamo appunto evocare è da attribuirsi allo storico Kircher che compie ricerche appunto sempre nel 1600 sulle terapie musicali legate al culto di Dioniso e viene personalmente in contatto con il tarantismo in Sicilia si dedica quindi questo studioso allo studio dell'uso terapeutico della tarantella e trascrive anche alcune melodie undici anni dopo la sua venuta in Sicilia pubblica un trattato molto noto dal titolo De Arte Magnetica in cui allegherà moltissime informazioni anche delle immagini che sono state realizzate appunto da Kircher con la tecnica dell'incisione una in particolare raffigura proprio il rituale del tarantismo ed è quindi molto importante per immaginarsi la tarantella e il tarantismo a quell'epoca in questa appunto immagine si vede una donna che balla due tarantati di cui uno di questi diciamo con abiti maschili ha una spada con la quale danza e poi c'è il suonatore che accompagna questa questa danza con il violino il Kircher nutre fiducia diciamo in questa terapia musicale ci crede alla taranta e le sue tesi hanno riscontro e risonanza in Europa portando il tema del tarantismo forse per la prima volta nel dibattito culturale dell'epoca come avevo detto prima Kircher aveva allegato al suo trattato di arte magnetica anche delle melodie otto melodie in particolare che erano eseguite da musicisti specifici che si girovaghi che si impiegavano proprio per realizzare la parte musicale della della terapia per quanti erano appunto avvelenati dal morso della taranta e questi musicisti erano chiamati tarenti quindi anche loro nel nome stesso avevano diciamo impresso il marchio della tarantola le melodie sono di varie regioni della Puglia siciliane ed una è definita proprio la vera tarantella ed è quella che poi passerà alla storia come tarantella napoletana nella regione campania sono appunto diverse le testimonianze nel corso dei secoli relative al tarantismo e sono veramente possiamo ritrovarle veramente un po' un po' dovunque non soltanto appunto nel racconto degli studiosi e quindi anche nel racconto diretto diciamo nell'esperienza diretta della classe subalterna a questo titolo è significativo l'esempio dell'ex voto dipinto che si trova appunto nel santuario della Madonna dell'Arco che si trova a Santa Anastasia in provincia di Napoli e rappresenta proprio un tarantato che balla sempre avendo in mano una spada come quello ritratto dal Kircher e da un lato è ritratto anche il suonatore appunto che segue la tarantella mentre dall'altro lato c'è una donna che invoca la Madonna dell'Arco affinché appunto faccia la grazia a questo tarantato anche nel 1700 abbiamo varie testimonianze di questo di questo fenomeno il musicista tedesco Von Uffenbach in un diario di viaggio annota come ritornando lui da un'esperienza ad Ercolano abbia incontrato un gruppo di contadine che hanno attirato la sua attenzione perché appunto saltavano e ballavano e avvicinatosi per insomma domandare spiegazioni il musicista scopre che queste donne stanno accompagnando un'altra donna in città quest'altra donna appare agli occhi appunto del del viaggiatore un silenziosa strana insomma diciamo nonostante l'allegria delle altre lei sembra stare in un altro mondo e apprende appunto da queste paesane che questa donna così triste è appunto stata morsa dalla Taranta le sue compagne di viaggio cercano di ballare proprio per suscitare nella malcapitata una reazione però a quanto pare questo loro piano diciamo almeno al momento in cui il musicista assiste a questa scena non va in porto anche nelle diciamo nelle dimensioni burocratiche sapete che la ricerca storica passa appunto anche dagli archivi una notizia molto nota relativa sempre alla campagna è quella che vede sempre nel 1700 un illustre medico napoletano che si identifica un caso di tarantismo presso l'ospedale degli incurabili si tratta di Nicolò Cirillo e ad essere coinvolta è una donna di origine pugliese il medico non sapendo più diciamo come come aiutarla la convoca un suonatore di violino e con l'aiuto di altre donne cerca di far muovere alla paziente qualche passo di danza cosa che avviene ma nonostante questo la malcapitata era digiuna da 72 ore e quindi decede appunto in maniera definitiva di questa notizia diciamo questa è una delle notizie più famose rispetto alla campagna e al tarantismo un altro che lascia un segno sempre nella stessa epoca rispetto alla campagna è il musicista Stephen Storace che è nato a Torri Annunziata poi è emigrato in Inghilterra e di lavoro fa il musicista rientrato insomma in patria per insomma per cose sue evidentemente viene interpellato dai compaesani perché c'è un uomo appunto tarantato e hanno bisogno di un suonatore di violino Storace non conosce la melodia della tarantella quindi se la cerca di capirla chiedendo agli astanti di canticchiargliela e così riesce insomma ad aiutare questo compaesano in difficoltà che al contempo danzava la melodia e si aiutava anche con una spada la cosa che colpisce moltissimo Storace che questa persona diciamo utilizzava questa spada per per danzare ferendosi sui palmi senza averne diciamo né timore apparentemente non provava neanche dolore talmente impressionato da questa da questa avventura Storace ritorna in Inghilterra dove vive e racconta quello che ha che ha vissuto ad un giornale inglese che si chiama Gentles Gentles perdonatemi per il mio inglese Gentlesman Magazine e pubblica appunto questa questa notizia che fa un po' il giro d'Europa addirittura Storace allega la partitura che aveva diciamo tirato giù a orecchio dai suoi compaesani in questo periodo un'altra cosa importante che avviene in Campania è l'intervento proprio così si può chiamare della scuola medica napoletana che ispirandosi appunto a principi illuministici sottopone il fenomeno del tarantismo a un'analisi fondata diciamo sulla osservazione e su esperimenti e il notissimo medico Francesco Serau arriva alla conclusione che la causa del tarantismo non era da ricercarsi in veleni presunti della tarantola ma nel diciamo nella inferiorità dei pugliesi e queste speculazioni vengono pubblicate in alcune lezioni sulla tarantola che al tempo ebbero veramente un grande successo anche perché furono pubblicate non in latino come era costume all'epoca ma in italiano e con la precisa volontà dell'autore di Serau di modificare proprio il costume popolare infatti verso la fine del settecento poi un'altra testimonianza che si ritrova a testa quella di Tommaso Fasano che veramente dalla città di Napoli sono scomparsi tutti gli spassi a cui si si dedicavano i morsicati dalla taranta ovviamente queste diciamo dichiarazioni queste affermazioni sono sicuramente eccessive come ci dimostrano poi i documenti che sono stati reperiti nei periodi successivi non sono assolutamente empiricamente dimostrate però ci fa capire come da parte di una certa classe sociale soprattutto nella città di Napoli venga proprio decretato l'insuccesso del tarantismo a tavolino ovviamente si tratta di un fenomeno che non sto affrontando nella sua complessità per ragioni di tempo ma che chiaramente come tutti i fenomeni culturali era già stato depotenziato appartenendo appunto ad un altro bacino culturale dall'intervento della chiesa del cattolicesimo e aveva già perso a quest'epoca parecchie valenze simboliche però diciamo questo intervento della scuola musicale napoletana è comunque parecchio aggressivo nei confronti del fenomeno e secondo appunto Roberto De Simone che è un regista e etnomusicologo che si è molto occupato e si occupa ancora di tradizioni popolari è proprio questo intervento che costringe il fenomeno all'autonomia e lo spinge ad essere a diventare soltanto danza e nient'altro che danza quindi potremmo dire che in seguito a questa azione della scuola medica napoletana si sviluppa proprio una forma di tarantella quadrata anche sui canoni della musica colta quindi è una nuova danza rifunzionalizzata che appunto è basata sulla ritualità collegata alla tarantola però perde le connotazioni più antiche e quindi sicuramente diciamo perde anche molta della sua ritualità infatti sempre alla fine del settecento un'altra testimonianza illustre ci arriva da Goethe che è in viaggio a Napoli e appunto descrive nei suoi diari la tarantella come popolarissima sia tra le ragazze di bassa e media condizione come danza appunto per sconfiggere l'ipocondria in generale ancora le punture dei ragni e per affrontare tutte le malattie che necessitano una massiccia sudorazione perché è una danza appunto sfrenata e quindi permette questa cosa nel soggiorno partenopeo Goethe frequenta anche la casa dell'ambasciatore inglese a Napoli tale Lord Hamilton e la moglie di questo diplomatico è una figura iconica tale Emma Hamilton di umili origini che poi aveva sposato insomma questo diplomatico e durante il soggiorno aveva creato delle performance che lei chiamava attitude ovvero delle esibizioni in cui appunto proponeva un misto di prosa di danza di recitazione e di repertorio anche appartenente appunto alla tarantella queste attitude avranno un enorme successo in Europa e diciamo influenzeranno stilisticamente varie interpretazioni addirittura alcune contemporanee e all'inizio dell'ottocento per la prima volta la tarantella viene scritta sul pentagramma ed è una tarantella appunto che oggi inquadriamo come tarantella napoletana sicuramente la conoscerete perché è molto famosa il titolo è O Guarracino e sempre secondo Roberto De Simone che ha raccolto varie versioni del Guarracino si tratta appunto di una melodia veramente arcaica diversa dalla musica che era in voga all'epoca per cui secondo De Simone e altri questa è una prova diciamo della non differenza tra tarantella pugliese che in maniera pregiudizievole identifichiamo come la tarantella preposta a curare dal morso della taranta e quella napoletana che sembra essere diciamo più più ludica anche nel diciamo nel in altre varie testimonianze relative al 1800 ritroviamo appunto questa dimensione doppia che sta assumendo la danza cioè si sta volgarizzando come danza di salone quindi si sta anche elevando tra virgolette di classe e al contempo però persevera resiste anche come danza del popolo c'è un'altra testimonianza poco nota che voglio evocare perché ci dà la misura appunto di come poi questo fenomeno avesse proprio permeato le maglie della nostra cultura è una testimonianza del XIX secolo riportata da Adele de Blasio il quale ci racconta di una tarantella danzata segretamente nel quartiere napoletano dell'Imbrecciata quartiere che poi sparirà in seguito appunto all'operazione del risanamento questa tarantella era un vero e proprio spettacolo a cui si assisteva diciamo fatto per i turisti e per vederlo si pagava il de Blasio ci racconta di due tarantelle una semplice e una complicata questa complicata e questa qui insomma che avveniva a pagamento e lui stesso dice che era una danza appunto che cominciava per ridere e finiva appunto per fare spavento addirittura racconta che i corpi dei danzatori mimavano degli amplessi anche un altro episodio ci fa sempre evocato dal de Blasio ci fa capire molto sulla sull'intreccio tarantella nella cultura napoletana e campana infatti la stessa modalità di tarantella questa complicata per cui si pagava e che aveva tanto scioccato del Blasio per gli amplessi mimati era diffusa tra le prostitute di Piazza Farnese che introdussero questa forma di danza diciamo erotica come forma promozionale per attirarsi per accapararsi i clienti cosa facevano all'orario in cui era prevista la libera uscita dei soldati le prostitute accompagnate da alcune suonatrici si mettevano appunto in alcuni luoghi tattici cantando una nenia in vito questi fatti spiegano appunto perché quando si parla di tarantella napoletana si allude a una danza di coppia autonoma rispetto alla danza del tarantismo comunque a qualcosa di ecco non certo bello o quantomeno complicato spiegano perché c'è questo pregiudizio incredibile sulla parola stessa tant'è che in napoletano ancora oggi non la utilizziamo se diciamo che tarantella lo stiamo dicendo per descrivere una situazione quanto meno complicata però diciamo tutto questo questi episodi storici con i quali spero di non avervi tediato ci fanno capire come stiamo parlando veramente di un affare complesso ma come anche questa diciamo voglia di isolare la la tarantella pugliese che non è una diciamo una speculazione contemporanea è qualcosa che già avveniva anche nel 1800 dalla tarantella napoletana che invece più cacciarona per usare un termine romano è meno utile diciamo a liberarsi dal morso della taranta in realtà è semplicemente frutto di una confusione storica perché chiaramente capirete che tra tutta questa questo marasma di possibilità di reperire referenze appunto nei discorsi dei vari viaggiatori nel corso dei secoli piuttosto che di comprendere come un fenomeno da popolare si è trasposto poi nella musica colta per poi ritornare nelle classi popolari insomma una cosa abbastanza complessa e quindi è chiaro che da abito a spiegazioni semplicistiche una cosa però c'è da dire che sul tarantismo esiste un dipinto un vero e proprio dipinto non come quelli citati in precedenza del Kircher che è stato realizzato perdonatemi sono tutti cognomi veramente impronunciabili quindi scusatemi se li sbaglio questo pittore che realizza questo dipinto è niente di meno che olandese si chiama Schellins e assiste appunto alla danza di una donna tarantata nei dintorni di Napoli perché si trova proprio in Italia è stato inviato per realizzare un atlante universale e quindi ritrae la danza di questa donna che sempre con la spada balla insieme a un'altra donna mentre nelle altre evocazioni della spada e questa era appunto rimbalzata sui palmi o tenuta in mano questa volta invece la donna la tiene proprio in bocca un po' come si fa nelle versioni caricatulari del tango dove c'è la rosa qui invece c'è una spada e c'è anche un'orchestrina composta insomma da vari elementi tra cui una donna che suona il tamburo nei pressi di un'edicola votiva che appunto accompagnano la danza questo disegno è importante perché oltre ad essere l'unico appunto dipinto dedicato al tarantismo è ambientato nei dintorni di Napoli e quindi colloca diciamo bene il fenomeno in campagna appunto ci spiega anche come sicuramente in campagna non vi era una dimensione individuale della danza della taranta perché la persona appunto danza con un'altra persona quindi confuta proprio tutto l'idea per cui il tarantismo è una danza solista mentre invece la tarantella napoletana come dicevo prima è una danza erotica un po' ammiccante un po' così dei cafoni un po' cacciarona sicuramente bisogna anche capire appunto che stiamo analizzando un complessissimo fenomeno sociale e rituale e quindi questo diciamo dipinto potrebbe anche testimoniare appunto il passaggio dal tarantismo curativo quindi che avveniva col singolo protagonista e gli altri che assistevano alla danza della tarantella questo ovviamente non lo sapremo mai però sicuramente appunto questo questo dipinto ci dà una dimensione sociale ecco del momento non c'è una persona sola su una montagna che sta a impazzire da sola ma ci sono appunto varie persone che assistono che suonano eccetera eccetera poi la questione appunto collegata con la cultura napoletana è complessissima ripeto è una vera tarantella se dovessi usare proprio il termine in dialetto perché la cultura napoletana è ricchissima in termini di musica e danza è veramente qualche cosa di incredibile quindi ci sono tantissime teorie anche quella per cui appunto la tarantella derivi anche dai balli cosiddetti di sfessania ovvero dei balli che erano stati evocati anche da Basile nel pentamerone dei balli agitati che appunto realizzati da persone che alla fine si rivelano sfessati come dice il termine ovvero un po' spossati e che appunto potevano eseguire queste danze sia per tarantullismo che anche per mestiere di saltimbanco infatti questo ci dà la misura di come anche un'altra influenza va tenuta in conto che è quella dei comici dell'arte ovvero gli attori professionisti che useranno anche loro il patrimonio della tarantella per ispirare moreesche eccetera eccetera e possiamo vedere di questo un'altra traccia iconografica nelle famose incisioni di di Cagliò appunto le testimonianze della tarantella in campagna sono veramente vastissime spesso sono connesse con riti devozionali alcune sono ancora tutt'oggi almeno fino a prima della pandemia utilizzate appunto dalle minoranze culturali tuttavia il fenomeno del tarantismo in senso stretto come morso della tarantola è accertato da fonti storiche nella provincia di Salerno fin dal 1800 infatti la prima traccia storica risale al 1819 quando Bamonte un canonico originario di Capaccio scrive la storia di Pestum e racconta come nella frazione detta Tempa di San Paolo che credo esista tutt'oggi ci sono molte tarantole di vari colori ragni insomma appunto che non fanno la tela e che escono dall'etane al tempo dell'ammettitura proprio con lo specifico scopo di pungere le persone secondo il canonico quando la persona è morsa da uno di questi insetti il corpo è invaso subito dal veleno e non c'è nessun altro rimedio che suoni e balli sulla zona del del Cilento del Salernitano altri riferimenti storici sono stati ritrovati anche in alcuni romanzi e racconti pubblicati qualche anno dopo l'intervento del canonico di Capaccio ma la ricerca fondamentale è quella che avviene nel 1976 quando Annabella Rossi un'antropologa allieva di De Martino e già docente presso proprio l'Università di Salerno realizza insieme al suo assistente Paolo Apolito e ad alcuni studenti che frequentavano l'Università di Salerno la ricerca che testimonia la presenza del fenomeno in numerosi paesi della zona che oggi che anche allora denominavamo Cilento e anche un paio in provincia di Caserta queste registrazioni rendono conto della diffusione di pratiche che oggi nella zona specifica sono state totalmente rimosse e c'è da dire che il diritto appunto a raccontarsi delle culture minoritarie fu appunto il cardine di tutta l'azione scientifica svolta da Annabella Rossi come proprio unica opposizione possibile ai processi di massificazione culturale e in quest'ottica venne raccolto il materiale relativo anche appunto all'universo della Taranta nella cultura cilentana in cui si sono rilevati dei casi fino al secondo dopoguerra insomma il ragno pungeva ancora indistintamente uomini o donne curati proprio in seno alla comunità che organizzava degli eventi specifici in cui i balli sfrenati come anche altri comportamenti di norma ostacolati erano permessi anzi proprio agevolati per i testimoni diretti intervistati da Annabella Rossi la Taranta è descritta come una vera e propria apparizione con sembianze per lo più femminili nella maggior parte dei casi anche con una biografia specifica quindi come dice proprio uno dei testimoni è una persona che all'improvviso appare nella testa del Tarantato e gli impartisce degli ordini ai quali né il Tarantato né la comunità si può rifiutare di dare seguito l'indagine di Annabella Rossi e vengo alla conclusione è l'unico riferimento scientifico relativo alla zona la sola analisi che è stata mai condotta e diciamo che per ragioni che sarebbe per ragioni di tempo non possiamo evocare qui è diciamo una delle ricerche veramente passate in secondo piano rispetto al tema del tarantismo e nel 2019 poco prima che scoppiasse il covid ho concluso la ricerca su questi materiali storici e ne ho pubblicato i risultati in un testo appunto dal titolo L'altra Taranta e mentre facevo le ricerche d'archivio ho provato anche insomma a cercare se qualcuno dei testimoni intervistati da Annabella Rossi fosse sopravvissuto al corso del tempo ne ho trovato soltanto una 96enne una donna 96enne che abita a Trentinara di cui diciamo ho scelto di non rivelare il nome tenendo fede anche a quello che aveva un po' fatto la Rossi e questa donna 96enne vabbè con tutti i limiti dovuti alla sua età alla sua condizione attuale ha comunque confermato di sapere che a Trentinara ci fosse una donna di nome Carmela che era stata morsa dalla Taranta e che bizzarmente nonostante fosse di estrazione sociale veramente molto bassa pretendeva di essere vestita di tutto punto e di essere accompagnata niente poco di meno che a Parigi che è dove io vivo quindi capirete perché questa cosa mi ha toccato particolarmente secondo questa signora la donna poi raggiunse davvero Parigi per rincontrare qualcuno e riuscì così a guarire comunque al di là se questo sia vero o no ovviamente non lo sapremo mai è un episodio che raccontato dalla viva voce di persone coinvolte che l'hanno potuto osservare con i loro occhi ci dà conto veramente dello spettro ampio del fenomeno e ovviamente su questo fenomeno pesa la marginalità a cui è soggetto tutto il sud e di cui il nostro incontrarci qui ma pesa anche una doppia marginalità perché all'interno diciamo della cultura campana o lucana che dir si voglia la cultura acilientana è veramente l'ultima fra gli ultimi e quindi questa marginalità ha investito anche i materiali appunto relativi al tarantismo che non sono assolutamente noti come per esempio la ricerca di De Martino in Puglia e nonostante questo nonostante le testimonianze siano veramente copiose perché circa una cinquantina sono state pubblicate poi in un libro postumo perché poi intanto l'antropologa Anna Bella Rossi scomparve che è uscito nel 1991 dal titolo E il mondo si fece giallo ma il patrimonio registrato ammonta circa 100 registrazioni e diciamo questo patrimonio è ignorato bellamente dalle istituzioni preposte alla tutela insomma del territorio della cultura del territorio di conseguenza è totalmente ignorato dalla popolazione e diciamo rispecchia come ancora oggi nella cultura campana come nella lingua napoletana per Severi una minoranza della cultura cilentana che è espressa dall'espressione con cui si che si utilizza nella lingua napoletana si dice vieni dal cilento proprio come sinonimo di provincialismo per direi vieni dal cilento niente di meno proprio dalle montagne questo oltre appunto a darci la misura che la realtà percepita e quindi agita dal gruppo sociale è ovviamente riflesso di quella della della macro realtà in cui questa 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 cultura è inserita ci dà anche la misura però di come per comprendere un un fenomeno così complesso come il tarantismo questo patrimonio è assolutamente necessario non solo all'identità del territorio ma proprio alla comprensione del fenomeno stesso e quindi concludo riferendomi all'oggi in cui tutto questo discorso e soprattutto il discorso relativo appunto alla taranta cilentana è oggetto di attenzione da parte della musicoterapia e da parte dell'accademia francese io vivo a Parigi quindi questo ci dà l'idea di come vista con altri occhi che appunto non sono viziati da pregiudizi di sorta questo patrimonio risulti veramente importante e fondamentale e mi ha fatto piacere parlarvene appunto non solo perché il mio oggetto di studi da un po' ma soprattutto per la minorità in cui è relegata questa cultura e quindi vi ringrazio di avermi ascoltato scusatemi grazie Tullia io passerei quindi dalle tradizioni e le culture del sud alle insorgenze e le notte nel verso giorno tra l'ottocento e il novecento a cura quest'ultima relazione di Francesco Caruso da attivista non global a professore di sociologia dell'università di Catanzaro c'è il sottofondo del bambino ma penso che no ma figurati Francesco non è un problema però non ti vediamo questo è il nostro non mi vedi no ora sì non mi hai mai visto fino a me no ti ho visto quando ti sei collegato ora no non ti conosco quindi a te la parola ora ti vediamo pure Francesco mi sono dimenticato pure la c'è allora niente io vi ringrazio per l'invito molto interessante la la discussione è un tema che ritorna molto spesso ne abbiamo soprattutto all'indomani del centocinquantenario dell'unificazione dell'Italia si è riacceso questa discussione sul sul pensiero meridionalista io però trovo appunto abbastanza scoordinato provinciale e anche con tendenze diciamo alla banalità e mi dispiace molto anche se poi diciamo il contesto generale che tende verso a semplificare e banalizzare e soprattutto disperdere patrimoni di ragionamenti e di riflessioni che ci sono già stati nel corso degli ultimi centocinquant'anni e mi sembra quasi una vuota che gira vuoto tornare sempre senza che ci siano i sedimenti diciamo delle riflessioni che ci sono state nel corso degli anni bisogna appunto riprenderle ricostruire da capo non andiamo molto lontano così non credo che andiamo molto lontano e poi c'è un altro elemento che è appunto il provincialismo cioè la mancanza di confronto con un dibattito internazionale che riguarda la questione del sud perché non è che in questo ci si ritrova solo ed esclusivamente a discuterne noi diciamo in queste in queste lande desolate del mezzogiorno d'Italia ma è una questione che riguarda molti paesi del sud globale come si suol dire io ne ho approfittato nel corso della mia nella mia esperienza accademica quando gli impegni familiari me lo permettevano ancora di trasferirmi alcuni mesi in India proprio perché credo che il dibattito storiografico in India sia un po' più avanzato innovativo diciamo non sclerotizzato come invece avviene in altri paesi e mi è sembrato cogliere dentro il dibattito e la rivisitazione di alcune categorie di alcune categorie storiche di del gruppo dei subaltern statis soprattutto appunto dal punto di vista storico storiografico piuttosto che dal punto di vista appunto teorico filosofico perché molto spesso si parte per la tangente non si studia il filone postcoloniale diciamo da questo punto di vista è diventato un contenitore dove dentro c'è di tutto di più concetto baule dove ci puoi mettere di dentro qualsiasi cosa e frullarla dentro questa diciamo questo nuovo pensiero postcolonial che si adice a qualsiasi purtroppo diciamo anche in una chiave di cattura ricostruzione alleggerimento della critica sociale che era portatrice diciamo la vecchia scuola dei studi subalterni mi riferisco in particolare alle riflessioni di Gua e alla capacità di riconsiderare le rivolte naxalite tutto viene in questi villaggi dell'India soprattutto il Bengala occidentale e negli anni 60 70 ma ancora oggi diciamo le rivolte naxalite contraddistinguono la storia sociale di quelle zone e la storiografia tanto quella marxista quanto quella diciamo liberale condividevano nel liquidare queste esperienze come forme di ribellismo anacronistico molto alla jacquerie senza nessuna altra espressione se non l'esasperazione di di secoli di dominio senza egemonia per riprendere appunto la rivistazione di Gua della categoria gramsciana di come appunto l'esercizio di questo l'espressione di queste rivolte altro non è stato che una forma appunto nevrotica quasi appunto come le taranto di cui si parlava prima di espressione culturale ma non un'espressione anche diciamo a volte paradelinquenziale se vai a vedere l'unico problema che abbiamo che hanno avuto questi storici l'esperienza della scuola storiografica dei subalternestadis è confrontarci con la mancanza di fonti le uniche fonti da cui è possibile ricavare questa ricostruzione storica delle rivolte inaxalite sono i rapporti delle sono i rapporti di polizia non esiste una bibliografia non esiste una capacità appunto di rappresentare se stessi di raccontarsi di narrare ecco tutto questo la cosa che mi ha colpito e che mi ha spinto ad andare dall'altra parte del mondo a parlare con Partha Chattargi con questi studiosi del centro studi di Calcutta che hanno portato che ancora oggi portano avanti questi studi sono appunto la trasposizione di quei ragionamenti che faceva Gramsci sul Mezzogiorno nel contesto indiano quindi il dominio senza egemonia cioè il fatto di queste classi subalterne che non riuscivano ad esprimere una loro capacità di autonomia di espressione ed erano appunto semplicemente dei senza voce nessuno si è mai preoccupato di costruire una narrazione e non ci sono tracce di storia di queste espressioni da questo punto di vista mi sembra molto indicativo riprendendo appunto il problema della mancanza di memoria storica sulla storia del Mezzogiorno il lavoro che fece Renzo del Carria il proletari senza rivoluzione cioè una ricostruzione di tutti quegli eventi che hanno contraddistinto la storia del Mezzogiorno in una chiave appunto di ricostruzione di una dignità dignità che non c'era perché le rivolte di cui si parla non avevano nessun al di là appunto di quelle che possono essere le forzature ideologiche non avevano nessuna presunzione di costruzione di un modello sociale alternativo ma era semplicemente l'aspirazione alla rivolta era semplicemente la rabbia di di rottura di questo un modello di schiavismo di paternalismo come lo volete chiamare voi di sottomissione di sfruttamento usate il termine che volete ma diciamo è abbastanza elementare il dualismo sociale che ha contraddistinto la storia negli ultimi secoli in questi paesi e quindi che cosa fa? fa un lavoro attento certosino di ricostruzione ad esempio della parentesi delle rivolte sul macinato rivolte nel macinato di cui non c'è traccia nella storiografia ufficiale ma neanche nella storiografia alternativa antagonista come la vogliamo chiamare malgrado quelle vicende ci parlano di mille la stagione che è stata 1867 69 comunque 130 morti ammazzati più di mille arresti ed espressione appunto abbastanza accentuata di queste di questo fenomeno diffuso di di ribellismo sociale ora a questo invece la scuola dell'antropologia statunitense pensate a Banfield pensate a tutto quello che si è scatenato nel secondo dopoguerra di questi studiosi americani che sono venuti nel sud a spiegarci la il familismo morale le teorie sul la mancanza di spirito civico ecco che in un certo senso si lega a questa rimozione della ribellismo sociale nella storiografia del mezzogiorno perché appunto svuota di senso cercando sempre dentro inquadrandole dentro le categorie del liberismo americano è evidente che l'occhio esterno ed estraneo alla ricerca delle forme della democrazia era tardoliberale di cui loro erano portatori dentro quello scenario appunto di colonizzazione dell'immaginario per usare le parole di Gruninsky del post-guerra di Marshall quella stagione ebbene arrivavano lì e trovavano sti trogloditi vestiti di nero tutte le donne nella piazza non c'era neanche una donna cioè si immaginavano appunto queste forme come protobarbariche e e si si è dovuto aspettare all'incirca 40-50 anni e questo va dato sicuramente il merito alla scuola di Bari di Franco Cassano e a quel filone di ricerca del pensiero cosiddetto pensiero meridiano per cercare appunto una rivalutazione di quella espressività sociale che diciamo non rientra dentro i canoni del liberismo quindi della partecipazione civica della rappresentazione democratica e dargliene una dignità quindi ricostruire appunto il valore dell'amicizia e del legame che non rientra nelle logiche del profitto e quindi anche il famoso scambio del dono riprendiamo Mousse in cui non c'è semplicemente la reciprocità del dare avere e ricambiare ma c'è un disinteresse che trascende dalle reti familiari anzi l'estensione di queste reti familiari attraverso questi riti di passaggio di aggregazione di affiliazioni che serve appunto a irrobustire la solidarietà la fratellanza l'amicizia la qui appunto penso mi permetto di citare Giovanni Arrighi e Fortunata Piselli e il loro studio che hanno fatto sulla Calabria negli anni settanta proprio a dimostrare come quel lavoro di ricerca sul rovesciamento del familismo morale dove la moralità era appunto il tentativo di far penetrare in un luogo ostile alle logiche del mercantino alla alla penetrazione del del sistema di dominio delle logiche del profitto ora eccessivamente forse cercavano di dargliene anche una valenza politica ma è in dubbio che questo elemento c'è poi puoi fare attorno tutte le costruzioni così come è in dubbio che Gramsci alcune intuizioni che sono state diciamo sottodimensionate sottovalutate in un certo senso anche rimosse dalla storiografia ufficiale gramsciana e che invece appunto gli indiani hanno ripreso e sono soprattutto questa sua spinta a cercare di cogliere una riflessione su il mistero di Napoli che è quella cosa famosa di Greta che tutti citano dove appunto la come è possibile la laboriosità del popolo napoletano è strano però alle logiche dell'accumulazione oppure non si riusciva a spiegare nel famoso quaderno 25 citava tutti gli episodi appunto di protagonismo sociale che però non avevano una guida lui che era diciamo con una scuola diciamo abbastanza dogmatica per cui il partito con la funzione avanguardistica e però si metteva in crisi quando nello studiare la storia del mezzogiorno nel rivedere la storia del mezzogiorno trovava questi elementi di rottura di incompatibilità di conflittualità che non rientravano dentro quello schema diciamo abbastanza sclerotizzato del rapporto capitale lavoro e lì vi è un elemento su cui appunto hanno lavorato gli indiani ma mezzogiorno poco e nulla si è fatto in Italia abbiamo cercato nel 2014 con quel laboratorio in orizzonti meridiani di cercare di aprire una riflessione sulla possibilità di attualizzare recuperando alcune riflessioni dall'India qua diciamo più di carattere politico che secondo me rimangono abbastanza valide che purtroppo nessuno qui nel mezzogiorno si è mai messo a lavorare seriamente su questo rovesciamento della dicotomia gramsciana tra società civile e società politica se noi non riusciamo a cogliere questo elemento e rimaniamo ancora imprigionati dentro quello schema non andiamo molto lontani nella società postmoderna della governamentalizzazione dello Stato carisci perché oggi per dirla allora la società civile sono le persone civili ed è giusto che la società civile si esprima attraverso i modi civili che sono le organizzazioni di volontariato la partecipazione al voto elettorale i sistemi della rappresentanza il terzo settore quella è la società civile che sono appunto i partiti i sindacati i lavoratori che si mettono insieme per tutelare i propri interessi tutto questo fa parte di un mondo che è il mondo appunto dei civili ma c'è un mondo che dentro lo schema del liberismo si è sempre più allargato che sono gli incivili e gli incivili sono i i barbari sono quelli che ti distruggono la città senza nessun principio di razionalità politica sono quelli gli incivili sono quelli che ti occupano le case sono i braccianti che ti bruciano e assaltano Rosarno dopo che gli hanno sparato a un altro sono i disoccupati organizzati che pretendono pensate un po' scendono in piazza perché vogliono il lavoro per loro sono gli occupanti delle case di tante città che si infilano in violazione di qualsiasi norma di buonsenso che è quella della costituzione della proprietà privata pigliano e si può tenere dei casi ecco allora questo mondo degli incivili uso questo termine barbaro per spiegare questo termine duro per spiegare perché parta cioè Targi parla di quella è la società politica c'è la società civile che si esprime ma quella esprime la politicità la forma in cui lo Stato si deve mostrare nella sua estrema sincerità di organo di costruzione di del potere del dominio senza leggemonia cioè questo è il passaggio su cui oggi si può fare leva cioè la mancanza delle classi dominanti di una capacità di presa nella loro narrazione non è solo una classe politica a livello scadente dei politicanti di oggi ma è nell'incapacità appunto di autocostruirsi un'identità questo appunto forse in Italia è ancora più accentuato dalla debolezza diciamo del principio dell'identità nazionale malgrado qualcuno la stia cercando di costruire ieri la faceva sulla Patania oggi te la fa a livello nazionale ma è arrivata quell'altra che gliela fa ancora più denso e diciamo ben costruito il discorso ma non riesci a costruire presa su quello se non con la dicotomia noi voi dell'immigrazione qualcosa sembra appunto funzionare ma il vero onesto è che c'è un pezzo di società sempre più nel mezzogiorno in modo appunto sempre più sostanzioso che non non lo riesci più ad agguantare tramite i sistemi clientelari di costruzioni di sottomissioni che non riesci più a intercettare e rimettere appunto nella incapsularli nella nella loro subalternità poi per carità io parlo da una città a Benevento dove il sindaco è Clemente Mastella per cui è abbastanza diciamo livello diciamo di paternalismo si diceva prima di subordinazione mi sembra che non sia affatto scalfito tuttavia quello che mi interessava ragionare che purtroppo non c'è sempre mancato un luogo un momento di riflessione intorno a quelle che sono le nostre piccole rivolte naxalite i movimenti sui rifiuti che ci sono stati in campagna ma in generale le altre battaglie che hanno attraversato le questioni ambientaliste nel mezzogiorno che hanno appunto avuto quella radicalità che a volte tracimava dalla semplice questione della no alla discarica ma denunciava appunto spesso l'abbandono il senso di isolamento che soprattutto nella fascia dell'osso meridionale dell'area interna ha sempre caratterizzato una certa diffidenza rispetto alla politica proprio perché l'esclusione territoriale si sovrapponeva e si sovrappone ancora oggi ad elementi di emarginazione sociale di essenzialmente deportazione e migrazione come la vogliamo chiamare il fatto che dove nasci poi devi solo andare via e per carità io spero di avere un futuro che non sia quello dell'abitante di Pietraroia cioè un paesino di 800 abitanti che sta qui però poi cosa succede? succede che Pietraroia diventa una delle mete più ambite da parte della borghesia illuminata o dei insomma i ricconi che si vanno a trascorrere appunto a riscoprire il valore della la serenità delle aree interne come costruzione di quest'altra stupidaggine che si sono inventate della South come è che è? La South dopo lo smart working South working e quindi che si possono tranquillamente da Pietraroia collegare con qualsiasi parte del mondo e fare da lì il loro lavoro questo appunto il South working diciamo permesso a una fascia estremamente ridotta della popolazione dell'Italia del mondo figuriamoci del mezzogiorno per cui ne vedo anche da lì una forma di colonizzazione di post-colonial cioè di queste forme diciamo innovative di colonizzazione del territorio in cui non vengono più con gli eserciti e con i mitra ma appunto arrivano armati delle che ne so delle bellissime paleoliche che ci vengono a piazzare da tutte le parti oppure di tantissimi bellissimi progetti di valorizzazione turistica così la chiamano loro e che poi appunto è a uso e consumo di qualcun altro dove tu appunto ritrovi il tuo ruolo semplicemente nel fare il servo di questo qualcuno e puoi essere anche trovare gratificazione perché avrai finalmente uno stipendio da cui guadagnare comunque per non essere chiudere pessimista la questione penso che vada riletta la questione del mezzogiorno dentro questi schemi diciamo di rivisitazione delle categorie classiche cercando di fare uno sforzo uno sforzo appunto è uscire fuori dagli stereotipi dai luoghi comuni dalle banalità e guardare anche oltre il naso di quello che succede fuori dall'Italia e possibilmente appunto io m'ho citato Proletari senza rivoluzione ma ci sono tantissimi altri testi classici eretici da qualche punto di vista potremmo dire che sono stati dimenticati ecco scoprire andarsi a riprendere a rileggere forse sarebbe molto più utile che perdere il tempo e giornate appresso a quel flusso continuo di banalità e di autoesaltazione e di egocentrismo che sono i social dove purtroppo molti delle nostre del nostro tempo viene speso e buttato grazie grazie a tutti per gli interventi Loredana vuoi dire qualche cosa vi ricordo che abbiamo soltanto pochi minuti purtroppo per fare un po' un dibattito interno se ci sono questioni intanto ce n'è già una che ci è arrivata da chi ha seguito il seminario Francesco adesso ci poneva la questione appunto della rimozione e della mancanza di sedimentazione di quello che è stato prodotto in realtà il nostro tentativo oggi era proprio quello di rimettere a valore tutte le ricerche storiografiche fatte con la speranza appunto che questa egemonia che viene esercitata possa trovare anche una contro cultura una cultura che fa appunto riferimento al meridione che esiste e che viene spesso appunto cancellato loredana e poi io se puoi leggo la domanda che ci hanno fatto no vai roberto leggi prima la domanda e poi ci abbiamo la questione che ci pone angelo massaro è diciamo come ripensare adesso le forme appunto dello Stato non è forse il caso di cominciare a ragionare su uno Stato che non sia appunto legato a quell'idea di Stato-Nazione che abbiamo conosciuto in questi anni ma questi secoli ma piuttosto pensare al rapporto anche con l'area del Mediterraneo con un Sud appunto che guarda agli altri l'altro spazio al di là del mare e stabilendo anche contatti e rapporti privilegiati con quest'area del mondo non so se c'è qualcuno che vuole e può rispondere abbiamo ancora una decina di minuti quindi a voi la parola forse Alfonso forse può dire qualche cosa su questo sì no sono assolutamente d'accordo la forma dello Stato-Nazione appunto non solo in Italia ma in tutto l'Occidente in quegli anni è vista come la forma più adeguata per il sistema capitalistico che si intende promuovere e a lungo questa questa visione è stata tramandata e devo dire i costi di questo modello dello Stato-Nazionale sono stati enormi soprattutto durante il Novecento è inutile dire come in linea con quello che diceva Francesco Caruso che questa forma dello Stato-Nazione era anche perfettamente adeguata a quella stagione dell'imperialismo e quindi alla riduzione a forme coloniali di una tante aree di sud del mondo e poi ancora ribadita durante il periodo della decolonizzazione quando sono stati inventati stati nazionali in territori dove culturalmente socialmente non c'era nessun presupposto e anche qui con una serie di esiti che drammaticamente abbiamo visto anche in anni recenti io sono assolutamente d'accordo personalmente a proposito delle domande da cui partire oggi anche per riflettere sul passato io ritengo che oggi ci sarebbe bisogno di uno sforzo di immaginazione di creatività politica per il sud d'Italia era uno di quei territori dove lo Stato era debole dove non c'era una presenza forte dello Stato e l'unità nazionale significò soprattutto introdurre in maniera quasi traumatica sicuramente molto frettolosa invece uno Stato forte quello dell'intervento straordinario per reprimere il brigantaggio ma anche quello della tassa sul macinato fu nacque tutto e tutto molto velocemente in un'area in un territorio dove invece esisteva un potere pubblico molto labile molto beh in realtà probabilmente sicuramente non fu una scelta adeguata e sicura qual è secondo me il riferimento importante che ci pone l'amico che fa la domanda questa rimodulazione anche questa idea anche di rinunciare lo Stato nazionale è una creazione storica non è che ci è sempre esistito è un frutto soprattutto appunto di quel ceto borghese che nell'ottocento si autonomina appunto dominatore della scena mondiale e non è per niente detto che il prosieguo della storia debba essere legato a questa forma di organizzazione del potere pubblico l'altro tema che mi permette è che sarebbe interessante immaginare un'evoluzione soprattutto in riferimento all'evoluzione del processo di integrazione europea e quello soprattutto per l'Italia e soprattutto per le politiche del Mediterraneo probabilmente sarebbe interessante oggi riflettere a come potrebbe evolvere questa Unione europea che evidentemente così com'è ci piace poco o niente però anche invece in vista del superamento di appunto la forma dello Stato Nazione grazie Loredana allora sì io penso che veramente almeno io personalmente ora sono in difficoltà perché ho ascoltato ogni intervento straordinariamente interessante l'approccio che noi abbiamo voluto dare anche muovendoci su un filone cronologico storico è quello proprio di rileggere anche la questione meridionale con approcci diversi con quelli che sono gli approcci di alcune delle scienze sociali e chiaramente a tal proposito tutti gli interventi hanno io ritengo valorizzato degli aspetti necessari per capire appunto oggi quale narrazione vi è stata e come è stata determinata diceva Valentino Romano la questione meridionale nasce quando c'è un sud che sta al nord di un qualcosa questa è la storia di tutti i sud del mondo che stanno dietro un'ingegneria sociale chiara che è l'ingegneria di quelli che sono più di recente gli stati nazioni di come si è passato da quelle che erano le società naturali alle società diciamo sociali dai sud dai sumeri ad oggi che hanno appunto determinato quello che io ora vado molto persi indesi un'ingegneria tale che vede una una piramide dove la punta è sempre più piccola ma rappresenta il dominio la violenza il potere e c'è poi una base larga che è la base delle cosiddette classi emarginate perché siamo in una società capitalistica lo stavamo nel novecento lo stavamo nell'ottocento che in qualche maniera anche attraverso gli studi prima Alfonso diceva quanto può essere ancora odierna l'analisi di Gramsci per me l'analisi di Gramsci rimane un riferimento essenziale nella Loredana però non ho detto questo no ti ho letto essenziale però tu ponevi una questione rispetto alla trasformazione delle relazioni sociali che oggi esistono in una nuova forma di capitalismo che avanza possiamo oggi fare di quella analisi un'analisi fotografla e dire è uguale oggi chiaramente no chiaramente no tu ponevi un altro problema era necessario all'unità d'Italia stava in un percorso però è pur vero tu citavi Pisacane oltre Pisacane ci sono stati altri rivoluzionari c'è stato il tradimento della base ed emoti rivoluzionario rispetto a quello su come è avvenuta poi la stessa unità lungi la critica all'unità di come dire faccio così si stava meglio quando si stava quando si stava peggio prima assolutamente non è vero assolutamente non si può oggi ricostruire la questione meridionale come alcuni gruppi fanno con un'interpretazione neoborbonica fondata sulle fesserie molte delle quali non hanno riprove scientifiche culturali e storiche e quindi diventano narrazione separatista che non è su una base di considerazione sociale ma semplicemente su una contrapposizione territoriale il nord contro il sud non c'è cazzata più grossa che si può fare in questo momento nonostante siamo sotto botta di un'autonomia differenziata che da anni cioè prosegue nelle agende di governo che nasce dalla eh dalla della modifica del del titolo quinto però com'è titolo quinto ah sì del titolo quinto come come io sono assolutamente d'accordo con l'approccio che eh dava eh Francesco c'è bisogno di non discutere solo di questione meridionale come questione nazionale la questione meridionale oggi è una questione europea si colloca in una questione internazionale proprio perché esistono i sud come io sono assolutamente eh il eh Massaro prima diceva immaginare altre forme di sviluppo immaginare altre forme benissimo io penso che noi dovremmo iniziare ad immaginare la collocazione di uno sviluppo del mezzogiorno d'Italia dentro l'area euro-mediterranea penso e su questo bisognerebbe che come dire la politica ci lavori cosa che al momento ancora non sta no nella discussione nei parametri di ragionamento come penso che oggi non c'è più la mera dicotomia capitale lavoro c'è una dicotomia capitale vita proprio per quelle che erano gli elementi di rivolta di ribellione che poneva prima Francesco e sta soprattutto in quella che è la condizione di vita oggi centosessantissimo anniversario dell'unità d'Italia centesimo anniversario della nascita del partito comunista d'Italia c'è uno sfruttamento maggiore rispetto a cento anni fa che non si colloca solo nel mercato della produzione ma anche della riproduzione che vede noi consumatori fruitori dei profitti altrui senza senza che noi nel momento in cui creiamo profitti altrui riusciamo ad avere un minimo di garanzia in questo io colloco molto la questione del reddito di cittadinanza e chiudo ci sono degli elementi che stasera sono venuti fuori che a volte sui quali a volte si preferisce tacere e io ringrazio i relatori che li hanno fatti venire fuori il paternalismo di cui parlava Alfonso che secondo me comporta anche un elemento ancora più forte che è il plebeismo che è stata sempre una condizione diffusa nell'Italia meridionale e che ha determinato da un lato quella egemonia di cui parlava Gramsci che prima abbiamo tirato fuori ma che oggi ancora determina delle condizioni per le quali non avviene un riscatto che mi mi fermo qui perché se no apriamo un altro dibattito e convegno vi ringrazio veramente tutti ringrazio Valentino Romano che aveva chiesto di 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 alzato la mano poi forse anche Alfonso ho visto che aveva alzato la mano Valentino controlla tu che io non riesco a controllare io ero andata proprio su lei ringraziamenti scusatemi Valentino sì eh se posso soltanto una brevissima assolutamente non polemica puntualizzazione eh io credevo di essermi eh spiegato sufficientemente bene ma vi chiedo scusa perché evidentemente così non è stato eh io non eh non sono assolutamente né filo né posto né né para né niente eh borbonico eh mi sembrava di averlo detto sostenere che eh gli ideali eh del né sono eh contro il risorgimento o ancora di più contro eh l'unità d'Italia che sono dei valori acquisiti e da e da difendere e mi mi spiace se eh ho dato a qualcuno mh questa eh questa impressione il problema il problema è un altro è che eh si può eh proprio in virtù dell'adesione a quegli ideali eh criticarne i modi eh di attuazione senza essere tacciati per antiunitari o peggio ancora eh filoborbonici credo che dovrebbe essere possibile accettare accettato da tutti mi rendo conto che in questo periodo si tende a fare tutte le erbe un fascio eh a etichettare col col neologismo di neoborbo tutte le forme di eh di dissenso per quanto riguarda l'analisi dei dei fatti dei fatti storici ma eh non appartengo alla categoria di coloro che buttano eh l'acqua con tutto il bambino il che però non mi impedisce di dire che spesso in diversi lavaggi quell'acqua è molto sporca e il risultato è risultato eh molto molto sporca è forse eh un essere eh antiunitario eh sostenere faccio soltanto un esempio brevissimo eh c'è una sorta in determinati ambienti c'è una sorta di eh giustificazione della legge PICA eh addirittura viene presentata eh come se fosse una legge eh fosse stata una legge garantista in che senso nel senso che eh resisi conto degli abusi dei militari eh nella prima fase della repressione si ritenne si ritenne eh doveroso mh intervenire con una legislazione che delimitando il compine del reato stesso in qualche modo eh garantisse il diritto eh alla difesa eh degli imputati ma a volte le giustificazioni eh si ritorcono contro chi le fa perché nel momento in cui se anche fosse vero che questa è una legge garantista eh non significherebbe forse che questi abusi ci sono stati tanto da e che sono stati tanto diffusi eh da dover eh essere eh disciplinati e poi eh con una con un intervento legislativo eccezionale questa è una è una semplice domanda che che uno si pone senza per questo mettere in discussione ed è eh forse eh si è colpevoli sempre di sentimenti antiunitari se si dice che per pur accettando ammettendo che eh questa legge eh abbia degli degli aspetti eh garantisti eh si può legittimamente far notare che nel momento in cui si interviene per reprimere gli abusi dei militari si affida poi il controllo e la gestione del eh del brigantaggio proprio a quegli stessi militari si può dire si può dire che è una ratifica ex posto di eh di abusi precedentemente eh commessi che è una sorta di giustificazione del resto eh non credo che sia che questa sia la filosofia della storia ma che sia semplicemente un'analisi dei fatti una lettura modestissima eh dei documenti eh basta andare al all'archivio centrale dello Stato e sfogliare i duecento faldoni dei procedimenti penali eh eh dei tribunali militari speciali di guerra per il brigantaggio eh i riesistenti per rendersi conto che forse qualche critica eh è legittima e dovrebbe essere accettata un attimino più serenamente grazie grazie a te Valentino io devo essere sincero non avevo letto questa tua questa insomma tua critica in chiave borbonica quindi non non penso che nessuno di noi l'abbia fatto sento anche ho molte ho molte colpe ma questa ti prego di credere no no assolutamente assolutamente Alfonso io molto brevemente un flash volevo anche io dire che quello che ho provato a dire prima è che da una parte attualizzare il passato sarebbe un errore clamoroso ma d'altra parte le domande che poniamo al nostro passato nascono indubbiamente dal nostro presente e allora quello che dicevo un partito come Rifondazione Comunista probabilmente è soprattutto a partire da un approfondimento dell'identità oggi che probabilmente ha la possibilità di cogliere ancora meglio la riflessione del passato quello volevo dire da questo punto di vista a me è piaciuto moltissimo quello che diceva Francesco Garuso tra le due dimensioni della società civile e scherzosamente quelle che lui definiva gli incivili io mi chiedo a proposito di identità di Rifondazione Comunista ma la butto lì però mi rendo conto che secondo me è una domanda importante ma Rifondazione Comunista dove vuole agire all'interno della società civile o tra gli incivili e il confine tra le due dimensioni qual è perché quello forse è un altro degli aspetti problematici grazie no grazie a te porremo la questione a Rifondazione Comunista perché noi in questa sede diciamo affrontiamo i temi un po' anche diciamo di approfondimento storico e sicuramente di impegno una chiave di lettura che ci serve per costruire anche una diciamo una presenza politica contemporanea è evidente che come è stato detto tutti i sud del mondo hanno caratteristiche simili che sono quelle del dominio ma è anche vero che noi abbiamo delle particolarità cioè l'India c'ha le sue come diceva Francesco e il Meridione c'è un'altra e queste raccontava anche bene Filomena fanno parte anche di un retaggio di una cultura che è stratificata che è utile secondo me capire non perché guardandola adesso gli vogliamo dare un valore che non ha ma capire chi siamo attraverso la ricostruzione storica di quello che è successo di come siamo arrivati a questo questo era un po' il nostro tentativo di questo primo incontro vi ringrazio ancora per aver partecipato e arricchito questo ragionamento e vi invito anche a seguire i prossimi che faremo il sabato prossimo e i due sabati successivi grazie ancora a tutte e a tutti e a Loredana il compito di salutare l'ultima parola per dare il saluto finale ok perfetto allora vabbè molto formalmente come si fa in questi casi salutiamo e ringraziamo Valentino Romano Filomena Navagliano Alfonso Ponte con il quale poi mi vado a prendere un caffè Tullia Conte e Francesco Caruso l'appuntamento è per sabato 5 per questo secondo seminario di questo ciclo lezioni meridionali grazie a Roberto e a Trasform a sostegno appunto di questo lungo ciclo sulla questione meridional leah